Forse vede, forse vede, forse vede, forse vede! Abbiamo creato tantissimo come occasioni, però sicuramente avevano molta, molta più qualità di noi. Abbiamo subito un gol per un errore abbastanza evidente. Diciamo che gli ultimi 20 minuti, con parecchia confusione, però comunque sia abbiamo messo più spirito, più animo rispetto a quello che abbiamo fatto fino ad ora. Abbiamo creato tre occasioni per poter parigiare almeno la partita, non ci siamo riusciti, però se la squadra si esprime a questo livello fai fatica a fare risultati. Purtroppo abbiamo dei giocatori che sono in grandissima difficoltà tecnica, fisica, mentale, però quando la squadra si esprime così credo che poi alla fine è giusto che l'allenatore si prenda tutte le responsabilità. Quindi non la prendete con la società, non la prendete con i calciatori, prendetela con me. Io sono il responsabile e poi, come ho detto da pochi giorni che sono arrivati, il 12 novembre si faranno i conti e si capirà in che maniera questa società vorrà andare avanti. Di sicuro questo è un gruppo che difficilmente può fare molto di più rispetto a quello che ha fatto. Grazie a tutti!